Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Siete italiane. Ragazzi, avete l'accento italiano. Perché mi capisci allora? Perché è stimolato in Romania. Ma f***! L'hai capito questo? No, l'ho chiamato in Italia. Come ti chiami? Di nomea il gabrone ha un cazzo molto spesso. Potevo dirlo? È meglio, all'insù, dritto o all'ingiù? Viva i cazzi verso sinistra! Viva i cazzi verso sinistra, viva i cazzi storti. Sono tutti storti, chi ce l'ha dritto è impossibile. Il mio si è drittissimo, il mio è proprio così. E ricordiamo circonferenza 25 centimetri. Con due. Allora, prima... adesso non c'è Leo, quindi posso dirlo. Prima ha detto... io gli ho detto Leo sta suonando e lei ha detto ma magari mi suona a me. Ok, l'ho portato da Leo. Zitta, ferma. Adesso Leo è qui, non fa un cazzo. Gli abbiamo detto bacialo, non fa un cazzo. Sì, tipo ieri, eh. Tipo ieri sera, eh. Ieri sera... Scusate, brillo. Eh, ma però non bisogna camminare sulla pista ciclabile. Tutto bene, bro. Vabbè, non è successo niente, dai, non si è fatto male. Si è fatto male? Ok. Ok. No, ragazzi, guardate. Scusate. Grave, bro. Scusate. Translate to me, please. Translate to me. I want to put my dick in your mouth. Ah, really? I want to throw it in the river. No, 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 no. No, ma perché mi piace. Ah, really? I also like you, madre... No, 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 no! Siamo giocando, non facciamo maranzas Allora, non giocare Non giocare Non giocare Ok, ok, scusate Non credo che sia divertente È per gag No Scusate No, è molto offensivo Potete perdere il tuo telefono Ma non è per l'offensivo È solo per l'appreciazione Puoi perdere il tuo telefono e anche i tuoi No, no, non fare il maranzas Non fare il maranzas Ok, 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 sei incazzato di brutto Mi ha preso la testa e me la va a mettere sul suo cazzo No, è un show come se Grazie a Ludo, sono avute vacanze io Non dire queste cose 500 euro sbancato Prendo le distanze Madonna come sono calde No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Più che uno psicologo dovrei trovare... Chi è che mi ha fatto il dito meglio dietro? Chi è che mi ha fatto il dito meglio dietro? Chi è che mi ha fatto il dito meglio dietro? Chi è che me l'ha fatto? Chi cazzo mi ha fatto il dito meglio dietro? ma vai 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 non guardiamo non guardiamo vai ma allora balla urlo di merda tra l'altro eh ho sentito vai alessia sembrava una sbancata incredibile invece boh invece bro eh ma dicevamo qui 3 euro lì che poi non ha pagato mmh capisci 380 bro 380 hanno messo il multiplier erano comunque un centinaio quasi di euro solo con quella giocata bro vabbè bet aperte sono riaperte le bet bet riaperte bravo d'alex è diventato l'efficiente vediamo no però questo non consumo troppo del monopattico no ma perché non mi hanno riconosciuto questi maranza ma che palle bro sono il gabrone volete pullapparmi peccato peccato bro mi chiamo così piacere sono al live si 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 maria maria è live davvero ma come fanno siete conciati raga ciao 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 non tiratevi le posso andare a vedere non si è visto niente vero speriamo vabbè se ti vanno non lo scopri se sennò il vanno non lo piace si ma capisci capisci l'importanza di questo incontro al tu saresti il simbolo dei troll su twitch saresti il fottuto simbolo bro potresti diventare una leggenda il troller ok i capelli no no che non sia mai che sia a donna allora facciamo un piccolo gioco camilla e giulia allora grazie damiano oh grazie damiano albergo da 2 euro potrebbe esplodermi oh oh nice nice bello porca puttana 48 ok continua 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 oh dio pensavo fosse multiplier 4 buono però buono ed è già un 50 per già un 50 per totale del bonus quasi già un 50 per totale del bonus oh oh yes cazzo dovevi mettermi in multiplier con l'act pro però va bene va bene questi sono soldi e questo è un 100 per subito però bet 2 cazzo buono porca puttana buono 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 e si gode zio cane continua 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 dammi l'ultima pagata dammi l'ultima pagata dammi l'ultima pagata questo qua l'ho conosciuto lui ok e lui l'ho conosciuto no c'è grambaud tu sei gabrone e c'è un altro che mi scriveva grambaud grambaud lui non c'è qua lui non c'è lui non c'è lui è il più il più hype quello che si scopa le tiktoker si scopa le fiche porta le fiche in stream con lui ti divertiresti con lui assaggi tanto però io poi il twitch non ci sta dietro quindi non capivo come il cazzo funzionava ma guarda ma non ci vuole un cazzo riccione dici lo conosco discretamente e così esce un po' di emozione andare la sera locali se la spiaggiano alla sera e se mi lasciate il contatto poi vi scrivo e vi posso dire magari dove andare dopo e la fattina merda però mi hai distrutto mi hai ucciso cioè ma hai letteralmente ucciso cioè questa è la più grande figura di merda mediatica che abbia mai fatto non lo so ragazzi io in verità non ci vado mai a ballare qua Riccione vengo sempre solo per questo scusa possiamo vedere anche quello sul piede grazie Fabio io sono un po' un feticista ti dico per questo che ti ho chiesto di farmelo vedere non perché mi interessasse davvero il tatuaggio no sto scherzando allora avevo un po' il segno del calzino mi sono fatti bene però molto bello cavolo molto male ma poi è sì molto minimal ma efficace sì sì l'ho fatto a posto però qui ragazzi ha fatto un male cioè più di quello sulla posto ah qua sul ma l'euro ragazzi ha un piede ma cosa significa questa gratis chiacchiere solo chiacchiere solo chiacchiere vuoi andare con il ragazzo che bello del samsara e allora non chiacchierare agisci do this do this agisci non chiacchiere facciamo una cosa da 15 anni facciamo una bella cosa da 15 anni bacio 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 bacio